Si riprenderà con la rimessa laterale Si avvicina all'area Non è facile trovare spazio Draxler Possono festeggiare il gol del vantaggio Niente da fare qui per il portiere su questa conclusione angolatissima Ha trovato un gol di sponda Grande gol con la palla di entrata dopo aver picchiato questo palo Grazie